Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, siamo in diretta, sono le 7 del mattino e ci ritroviamo come di consueto per la lettura dei giornali quotidiani che tra poco vedremo. Cominciamo dal santo del giorno, vediamo subito con l'aiuto della grafica, oggi la chiesa cattolica ricorda i santi Giacinto, Castaneda e Vincenzo Liem. Il sole è sorto alle 6.51, tramonterà alle 16.52. Il tempo, questa è la prima pagina del sito trebimeteo.com che annuncia perturbazioni non stop, venerdì altro maltempo con pioggia, vento e anche neve che arriverà tra i 1200 e i 1500 metri, come vedete, dalla grafica sulle Alpi. Però nella grafica, facendo attenzione, come vedete, non c'è la regione Marche interessata da questo vortice e da queste piogge intense. Andiamo nello specifico a vedere che cosa prevede invece la protezione civile delle Marche. Intanto per la giornata di oggi. Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso, attenzione ai venti di brezza tesa, le temperature sono stazionarie. Domani, venerdì 8, arriva il maltempo con deboli e sparse precipitazioni sulle zone interne occasionali altrove. Nel pomeriggio di domani i fenomeni localmente saranno però a carattere di rovescio. Ci sarà nell'interno venti forti fino a Burrasca, mentre soffierà un vento di scirocco lungo la costa con raffiche fino a vento fresco. Sabato 9 novembre avremo un cielo sereno al mattino, poi il pomeriggio arriverà la pioggia, brevi piovaschi nel settore centro-settentrionale, come dicevano, il pomeriggio. Non ci saranno variazioni per quanto riguarda la temperatura, i venti saranno con raffiche moderate sempre nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda i prossimi giorni, quindi domenica, avremo impulsi di aria fredda con precipitazioni, fasi di garbino, quindi vento freddo, vento caldo, insomma, continueranno a caratterizzare il tempo per i prossimi giorni. Per quanto riguarda la temperatura di oggi, giovedì, abbiamo quella prevista intorno alle ore 14, come vedete sono comunque intorno ai 17-18 gradi, addirittura fermo saremo intorno ai 20 gradi. Quindi, ecco, per dirvi che sì, siamo nell'autunno, ma insomma con temperature ancora gradevoli. Vediamo subito i giornali, allora il resto del Calino, il Corriere Adriatico, le pagine, le pagine della provincia di Peso Urbino in particolare, ma vedremo anche le prime pagine di Macerata e di Ancona. La cronaca sul Corriere Adriatico, lite alla stazione per una donna, esce dall'ospedale e va direttamente in carcere. Il 38enne finito a San Salvatore con un mese di prognosi era ricercato per droga. Per questo, appena finite le visite al pronto soccorso, i poliziotti lo hanno portato direttamente in carcere. Perché è finito in carcere? Allora, perché a un certo punto ha innescato questa persona una lite furibonda alla stazione del treno, nata questa lite per un apprezzamento su una donna. L'autore, il rumeno, poi pestato da questo italiano, compagno della donna, era ricercato. L'ordine di carcerazione era stato emesso per vari reati, tra cui spaccio di droga. A centro pagina, invece, i pesaresi sicuramente riconosceranno questa via dove insiste questo stabile. L'Erap, questa è la notizia, compra le zoccolette dal Comune. Ricci, solo la Lega ha detto no, la replica un regalo. Dal complesso verranno ricavati 15 alloggi in edilizie agevolate e spazi pubblici. Di spalla la politica, Mancinelli, sindaco di Ancona, rassicura, mai candidata contro Ceriscioli. Sotto, tacco urgente negata in clinica. La Regione non ci rimborsa, è una storia di burocrazia estrema e di pazienti sacrificabili nel nome del budget. Questo è quanto accaduto a un tavugliese in una clinica privata convenzionata di Ancona, rimandato a casa nonostante un attacco urgente da effettuare dopo una emorragia intestinale. La pagina di Pesaro del Carlino, rinascita dal degrado. L'Erap compra l'edificio di via della Vetreria, 15 alloggi popolari. Esce di casa per un'ora, assalto dei ladri, appartamento ripulito, mentre ex Bramante al Comune arriva la lettera di sfratto e sotto, ristorante Nostrano, La Stella, Michelin, brilla ancora. Questa è la pagina di Ancona, a centropagina il sindaco Mancinelli, le confessioni di Valerio, perché cita Sant'Agostino e racconta il suo libro. Macerata, ecco le scuole da dieci e lode, un'indagine che premia il classico di Recanati e il Fidelfo di Tolentino, che sono due scuole al top. L'ultimo saluto a Vanni Leopardi, la città ha perso un riferimento, questo a Recanati. La pagina di Fado del Corriere, clinica privata, il vincolo del MEF, il Ministero, ai piani contro la mobilità passiva nel patto per la salute prescritta l'invarianza del costo, no alla flessibilità sul nuovo tetto per il personale pubblico. Il premio Mattei va all'industriale Giancarlo Paci, la consegna domenica da Colagna nell'ambito della Fiera del Tartufo. Nelle precedenti edizioni il premio è stato conferito a Pier Giorgio Cariaggi, della Cariaggi, poi Giovanni Gasparini della Renco e Luigi Moretti della Benelli Armi. Domenica dunque Giancarlo Paci avrà modo di raccontare agli ospiti presenti la sua storia personale, che ha visto l'azienda fanese a passare da 20 a più di 1.000 lavoratori, da 7.000 a oltre 300.000 m2 di superficie, dai profili ai laminati e dal settore di l'automotive, l'elettronica, i casalinghi, la meccanica e tanti altri settori ancora. La pagina del Carlino di Fano, assalto in Villa Lucrezia, bottino da migliaia di euro, il cane è stato narcotizzato con uno spray, scassinata la cassaforte, la proprietaria dice servono più controlli. Il Carnevale di Fano promosso da calcio a volle in tutta Italia, la sponsorizzazione deliberata dalla Giunta entro il tetto di spesa di 40.000 euro, vedete le magliette dei giocatori sia del Fano di calcio che della pallavolo, tutti con il logo della città, quello nuovo di Fano, e la scritta che richiama il Carnevale. Il Nolfi si è trasferito all'ex convitto Vittorio Colonna, Nuova Fano vuole mediare con l'Inpsi, il Movimento 5 Stelle chiede un tavolo per l'emergenza, mentre sulle infiltrazioni alla palestra di Cucurano la Lega, si dice, critica. Il semaforo rosso, siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere, in dieci mesi ha elevato contravvenzioni a raffica, e sono addirittura quadruplicate. L'effetto delle videocamere e il Ponte Rosso crescono anche le infrazioni per eccesso di velocità. Aiuti ai bisognosi, ma anche occupazione. Domomia amplia il progetto di sostegno e crea nuove opportunità di lavoro per chi si trova in difficoltà, ed è un contributo importante per la città. Esce solo per un'ora la cronaca da Pesaro, appartamento ripulito in pieno centro, in un palazzo di Piazza Garibaldi, colpo da circa 8 mila euro, rubati gioielli, in particolare oro, divelta anche la serratura del portone blindato, mentre un colpo, un altro colpo, è andato a vuoto, però questa volta in via Monte dell'Ardizio, dove sono entrati in un appartamento, ma non c'era niente da prendere. I ladri entrano negli appartamenti, qui siamo sul Corriere, ma non ci sono segni di effrazione. L'ultima segnalazione in via Monte dell'Ardizio, nella casa di un'anziana signora. Il fuori di strada a Trebbiantico, invece, il pensionato non ce l'ha fatta, Giovanni Mercolini, il pensionato di 76 anni, che era stato soccorso due settimane fa lungo la strada dei Colli, che a Trebbiantico, dopo aver perso il controllo del mezzo che stava guidando, una Opel, purtroppo non ce l'ha fatta. Il pensionato era stato portato all'ospedale di Ancona, ma nel fuoristrada, dove non erano stati coinvolti altri mezzi, aveva perso il controllo della macchina all'imboccatura di una curva e purtroppo è morto. Addio anche a una storica commerciante, si svolgerà domani nella parrocchia di San Carlo Borromeo, funerale di Adriana Pagnoni Ioni, scomparsa a 92 anni. Era tra le più note commercianti di Pesaro. Il suo negozio di scarpe, che per decenni aveva gestito insieme al marito nel sottologgiato di corso 11 settembre, è stato per lungo tempo un punto di riferimento per i pesaresi. La coppia rappresentava l'anima praticamente del commercio locale. Tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa della cara mamma sono giunti anche alla figlia, collega Anna Rita Ioni, che è direttrice dell'emittente Radio Fano. Il vigile gli fa la multa per divieto, l'automobilista lo prende a Morsi, il mezzo era stato parcheggiato davanti alle poste a Monte Felcino, l'uomo ha raggiunto la gente in ufficio, prima la minaccia di fotografarlo, poi per metterlo sui social network, poi lo scontro fisico. La collutazione è avvenuta dentro il comune con altri testimoni presenti, è scattata ovviamente la denuncia. Nella fotografia, ecco qua, allora questa è d'archivio, questa qua, ma questa invece è quella di ieri, quindi si vede proprio la gamba del vigile aggredita praticamente a Morsi. Restiamo a Durbino perché, guardate qui, sono operai del comune che stanno rimuovendo baccheche, le baccheche, quelle che si usava una volta per comunicare, ora le baccheche sono tutte virtuali, si va su internet, su Facebook, si scrive e si mette un po' tutti quanti, no, si mandano appelli, annunci e quant'altro e avvisi. Ebbene, queste baccheche obsolete sono state smontate, ma la cosa bella, tra l'altro affascinante, secondo me straordinaria, eccola qua, questa fotografia, praticamente sotto a una di queste baccheche è spuntato questo manifesto del 1972, davvero molto, molto bello. In Corso Garibaldi ne sono spuntati fuori due perfettamente conservati di questi manifesti ed erano appunto sotto questa baccheca. Corriere Adriatico, crimini informatici, accordo firmato, protocollo d'intesa alla Benelli Armi, tra Confindustria, Marche Nord e Polizia di Stato, impegno comune, sarà sviluppato un piano per condividere analisi di informazioni, soprattutto per prevenire attacchi informatici e danneggiamenti. Sempre da Urbino, si ha il nuovo plesso, ma il vecchio edificio va verificato, PD e Viva Urbino chiedono di proseguire l'indagine sulla struttura scolastica. Andiamo un attimo nella cronaca delle Marche, la sua villa andrà all'asta, l'imprenditore Calamante, che vedete in questa fotografia, tenta il suicidio in giardino. È successo ad Appignano, il cinquantenne si sarebbe sparato due colpi di pistola, adesso è ricoverato in gravi condizioni al Torrette di Ancona. Ecco le stelle della nostra cucina, la guida Michelin conferma i riconoscimenti per gli chef Uliassi, Cedroni e Recanati di Andreina. Ecco le tre foto di questi tre, che ieri sono stati premiati a Piacenza durante la sessantacinquesima manifestazione, la sessantacinquesima cerimonia dedicata alla guida Michelin 2020. Mancinelli, sindaco di Ancona, rebus regionali, sindaco non mi candido, dice lei, contro il presidente uscente, ovvero Luca Cerescioli. Il primo cittadino presenta il suo libro e parla di futuro. L'Erap compra le zoccolette, avanti con il piano alloggi al comune andranno 775 mila euro, ma il progetto di recupero vale almeno 3 milioni e mezzo. Il consigliere Biancani dice solo su Pesaro abbiamo concentrato investimenti per quasi 8 milioni di euro. Tra Victoria, Atanasia e Suina, quest'anno l'influenza si fa in tre, da oggi ci si può vaccinare, Monaldi dell'Asur dice abbiamo più dosi disponibili, vogliamo aumentare infatti la copertura vaccinale mentre sotto l'omaggio della polizia i vigili del fuoco caduti un momento di intensa commozione ieri sera al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pesaro dove una delegazione della squadra volante in rappresentanza delle donne, degli uomini della questura di Pesaro Urbino ha reso omaggio ai colleghi dei vigili del fuoco caduti in servizio ad Alessandria. Ciclovia adriatica siamo sulla pagina di Senigallia l'impresa è pronta al via i lavori sul lungomare Da Vinci l'assessore Monachesi dice questo è solo il primo step c'è già un progetto per il ponte sul Cesano verifiche di vulnerabilità sismica solo 5 scuole su 28 raggiungono l'indice fissato per legge e anche il centro di Senigallia si accende per il Natale installazione di luci ecco la mappa delle location tutto l'elenco delle vie dove appunto si accenderanno presto le luci natalizie doppio allarme infortuni allo stadio in palestra Marzocca un 18enne ferito un'ambulanza corsa pure alle scuole delle saline da Senigallia un ricorso pilota contro le ordinanze plastic free la Liomatic che è la società che tutti quanti conosciamo perché gestisce le macchinette quelle per il caffè impugnerà in tutta la regione i provvedimenti dei sindaci sui contenitori monouso dunque partendo dal presupposto che l'azienda non ce l'ha con Senigallia e con il comune ma servirà per vedere che effetto fa questi ricorsi perché se poi vengono in qualche modo passano allora verranno portati avanti anche in tutto il resto dell'Italia laddove i comuni appunto fanno un po' come vogliono e quindi mettono in campo queste ordinanze che vietano completamente la plastica capite che per un'azienda come la Liomatic che si produce macchinette che fa caffè, tè e quant'altro ma li fa e li versa su dei bicchieri di plastica la vita gli si complica e quindi il problema è sempre lo stesso comunque che al di là di queste ordinanze plastic free il problema è sempre uno che ci sono gli incivili che gettano la plastica è tutto lì il problema sono gli incivili e non la plastica Uliassi terza stella confermata premiato da Michelin lo chef apparecchia la tavola con porcellane di recupero l'emozione viaggia anche su Instagram dove evidentemente lo chef ha postato alcune fotografie piccoli crolli siamo sulla pagina della Valle del Cesano piccoli crolli dalla chiesa nessuno rimuove i rischi zona transennata da mesi la situazione è cronica l'impegno del sindaco a risolvere il caso qui siamo a Fossombrone e questa è via San Francesco attigua all'omonimo edificio sacro frequentata questa via anche per la sosta ma dove ci sono stati anche appunto come avevamo detto dei crolli piano antenne sempre dalla Valle del Cesano in ritardo ci sono anche i contributi il Movimento 5 Stelle chiede di disciplinare la distribuzione a tutela della salute in vista dell'arrivo del 5G tutelare le persone esposte all'amianto da Mondavio il consigliere delegato della Sanità Talè presenta una proposta di legge regionale per prima di salutarci rivediamo velocemente anche perché la voce mi sta abbandonando rivediamo velocemente le due prime pagine allora la cronaca sul Corriere Adriatico l'Ital a stazione per una donna esce dall'ospedale e va direttamente in carcere un 38enne finito a San Salvatore con un mese di prognosi era ricercato per droga la villa va all'asta tenta il suicidio il re l'ex re delle cave lo shock ad Appignano poi l'Erap che compra le zoccolette dal comune di Pesaro dal complesso verranno ricavati 15 alloggi in edilizia agevolata e spazi pubblici Ricci dice solo la Lega ha detto di no la replica è un regalo e poi Mancinelli il sindaco di Ancona che è sicura dice non mi candido contro Ceriscioli alle prossime regionali TAC urgente negata in clinica la regione non ci rimborsa un tavogliese vittima del budget di fine mese attesa di 5 ore e lui dice avrei pagato anche il ticket poi questo invece è il resto del carino di Pesaro a centro pagina anche qui rinascita dal degrado l'Erap compra il difficile di via della vetreria 15 alloggi poporali al suo posto narcotizzano il cane ride in villa una banda di professionisti Nazione Lucrezia scardinata la cassaforte un bottino di migliaia di euro esce di casa per un'ora assalto dei ladri appartamento ripulito l'allarme furti anche a Pesaro mentre a Montefelcino un uomo prende una multa prima insulta il poliziotto e poi prende a morsi il vigile urbano ex Bramante al comune arriva la lettera di sfratto mentre dalla lite al carcere provoca una ragazza picchiato e poi arrestato per vecchi guai e sulla guida Michelin ristorante nostrano la stella brilla ancora il ristorante nostrano è l'unico che ha preso una stella in provincia di Peso Urbino si trova su lungomare pesarese mentre si parla anche di aziende sbarco in America riva cold senza confini noi ci salutiamo qui la rassegna stampa è finita vi ricordo che questa sera c'è l'appuntamento con il telegiornale occhio alla notizia alle 20 e 30 come sempre il nostro numero di telefono lo vedete qui 338 49 68 250 che potete utilizzare anche per rinviarci le vostre preziosissime segnalazioni vi ricordo invece per quanto riguarda il documentario il documentario su Fano e la seconda guerra mondiale che ieri in rassegna stampa vi avevo annunciato ecco facendo le verifiche anche con la rete abbiamo deciso di trasmetterlo la domenica sera ma non questa domenica bensì dalla prossima se poi Riccardo ha il calendario sotto mano mi puoi dire anche il giorno il numero così ce lo memorizziamo meglio alle 20 e 45 dopo il telegiornale quindi domenica è 17 giusto? domenica 17 quindi domenica 17 tutte le domeniche saranno 4 o 5 puntate manderemo in onda questo documentario che già abbiamo trasmesso l'anno scorso che ha avuto un grandissimo successo un documentario sulla seconda guerra mondiale a Fano grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.